Ecco una compilation con tantissime battute inedite! Inoltre vi propongo una sfida! Scrivete nei commenti le vostre battute! Realizzerò e pubblicherò quelle che ottengono più like! Buon divertimento! Cosa stai facendo? Non starai mica guardando ancora il cellulare prima di andare a letto? No mamma, tranquilla! Non vedi che sto leggendo un libro? Ah sì? Ops! Ho comprato una macchina fotografica! Wow, bravo! Mi fai vedere un tuo scatto? Certo, eccolo! Sorella, ti sembro grasso? No! Ti sembro tonto? No! Ti sembro brutto? No! Cos'è successo? Allora perché tutti dicono che ti assomiglio? Ecco perché è importante il lavoro di squadra! Ho ordinato due pizze, va bene? Mi dispiace, ma a me non piace la pizza! Ok, nessun problema, cambiamo subito! Ah, così va meglio! Buon appetito, bro! State guardando un elefante che dorme su Pino! Questa è la gamba di Pino! Prima del caffè... Odio tutti! Dopo il caffè... Ah, come mi sento bene a odiare tutti! Cosa devi fare oggi? Farò fuori 10.000 persone e un rinoceronte! Perché un rinoceronte? Vedi? A nessuno importa di 10.000 persone! Come mai sei in carcere? Ho avuto un arresto del sistema, e tu? Io ho avuto un arresto cardiaco! Figliolo! Non stare troppo vicino alla TV che ti potrebbe fare male! Pfff! Figurati cosa mai potrebbe capitarmi se guardo la TV troppo da vicino! Scenda dalla macchina e soffi nel palloncino! Ok, ma poi vado a giocare da un'altra parte col palloncino, che qui passano le macchine! Non vi preoccupate! Una volta che mi eleggerete, diventerò vegetariano! Mamma, posso dormire con te stanotte? Ho paura che ci sia un mostro sotto il letto! No, amore! Meglio di no! Come mai? Perché non posso rischiare che il mostro ti segua fino a camera mia! Papà, perché quando piove mi entra l'acqua in bocca? E che ne so io! A me non succede mai! Cosa fa un liquore appeso a un precipizio? Si aggrappa! Quest'auto va a energia nucleare! Radioattiva? No, la radio adesso è spenta! Mi scusi, dov'è Piazza dei Caduti? È quella laggiù! Ne è sicuro? Certo! Ci sono passato poco fa e sono inciampato! Smettila di fare il sarcastico! Cosa pensi che diranno i tuoi genitori se li chiamo adesso al telefono? Pronto? Due cassaforti si incontrano! Wow! Che combinazione incontrarti! Non mi scassare! Un angelo compare davanti a un uomo! Ho una bella e una brutta notizia! Dimmi prima la bella! Quando andrai in paradiso potrai finalmente giocare a calcio con Maradona! Wow! Che bello! E la brutta? La brutta è che la partita è domani! Cosa fa un re e una regina vicino all'albero di Natale? Fanno i regali! Mio figlio si rifiuta di mangiare il pesce! Cosa pensi sia un buon sostituto? I gatti! I gatti amano il pesce! Ululato! Ulufronte! Ho trovato un modo divertente per risparmiare soldi e divertirmi! Ah forte! Qual è? Dormire! Avrei dovuto sposare il diavolo! Sarebbe stato un marito migliore di te! Ma tesoro! Il matrimonio tra parenti è illegale! Dottore! Sono fuori forma! Cosa dovrei fare? Dovrebbe iscriversi in palestra! Ah ok! Dottore! Dopo un mese dalla mia iscrizione in palestra! Non è cambiato nulla! Quante volte ci va alla settimana? Ah! Ma dovevo pure andarci! Il mio ragazzo è un cesso! Peata te! Buonasera! Pizza da Mario? No! È Google Pizza! Oh scusa! Ho sbagliato numero? No Google! Ha comprato la pizzeria! Ah! Capito! Posso ordinare una pizza a domicilio? Certo! Preferisci ordinare la solita? La solita? Ma come fai a saperlo? Dal tuo numero! Le ultime dieci volte hai preso una pizza con prosciutto crudo e bufala! Sì! Va bene quella! Posso consigliarti invece una pizza con spinaci e pomodorini freschi? Ma sei pazzo? Non mangio verdure! Beh! Il tuo colesterolo è piuttosto alto! Come fai a saperlo? Hai sincronizzato i tuoi esami del sangue con il nostro sistema! Non mi interessa! Sto già prendendo le medicine! Non proprio! Risulta che le hai acquistate solo una volta tre mesi fa nella farmacia vicino al tuo lavoro e poi non le hai più comprate! Le ho prese in una farmacia diversa! Non risulta sulla tua carta di credito! Le ho pagate in contanti! Non ci sono prelievi recenti dal tuo conto! Avevo del contante da parte! Non risulta dalla tua dichiarazione dei redditi! A meno che non sia denaro non dichiarato! Questa è follia! Me ne vado su un'isola sperduta! Senza internet e senza telefono! Ottima idea! Ma rinnova il passaporto! È scaduto la settimana scorsa! Due agenti in Puglia! Perché hai arrestato quell'autostoppista? Gli ho chiesto dove stesse andando! E lui invece di rispondermi! Mi ha insultato due volte! E cosa ti ha detto? Mi ha detto bitonto! Papà c'è un ladro in casa! Presto! Chiama i carabinieri! Ma non arriveranno mai in tempo! Allora chiama i carabinoggi! In Inghilterra questo viene chiamato Lego! Ma se gli tolgono le gambe viene chiamato semplicemente O! Tre commercianti si vantano delle loro vendite straordinarie! Io sono così bravo che ho venduto un frigorifero a un eschimese! Io sono così bravo che ho venduto una racchetta da tennis a una persona senza braccia! Io ho venduto un orologio a cucù a un uomo! E cosa c'è di strano? Gli ho venduto anche un chilo di mangime per uccelli! Due imprenditori si incontrano! Come fai a far arrivare i tuoi impiegati sempre puntuali? Semplice! Ho 20 dipendenti ma solo 15 parcheggi disponibili! Un cuoco raffreddato prepara un piatto speciale! Mmm sembra squisito! Cos'è? Dopo! Ah ok! È una sorpresa e me lo vuole dire dopo! Allora chef cos'era? Glielo dedo! È dopo! Dopo? Sì dopo! Il sorcio! Vorrei un biglietto per ciriaco! Mi dispiace non posso! Non esiste ciriaco! Ma è sicuro? Sì sono sicuro! Allora sei riuscito a comprarmi il biglietto? Il bigliettaio non me l'ha voluto fare! Mi dispiace ciriaco! Devo darti una brutta notizia! Anche io! Mario mi ha tradita! Ah! Allora devo darti una buona notizia! Quale? Ho investito Mario! Avevo un pesce rosso che riusciva a fare breakdance sul tappeto di casa! Ah! Forte! Peccato che durasse solo 30 secondi e lo facesse solo una volta! Ah! Questa medicina abbassa l'acidità! Lo spero bene! Testa di cavolo! I miei dubbi esistenziali! E se l'ossigeno fosse in realtà un lento veleno che ci fa fuori in circa 80-100 anni? Ma se dai resti dei dinosauri si ricava il petrolio e con il petrolio ci facciamo la plastica, allora vuol dire che i dinosauri di plastica sono dinosauri veri? I saggi consigli del nonno! Nipote! Ricordati di non frequentare mai persone che parlano male degli altri, perché appena non sarai con loro parleranno male anche di te! Nonno, e se parlano alle mie spalle cosa dovrai fare? Se parlano alle tue spalle, tu scorreggia! Qual è la differenza tra cadere dal primo piano e dal quinto piano? Chi cade dal primo piano? Aaaaaah! Chi cade dal quinto piano? Aaaaaah! Qual è il motto delle pompe funebri? Boh! Eh, non perdiamo la salma! Qual è il suo peggior difetto? Credo facilmente alle persone! Ah, ottimo! Allora lei è assunto! Grazie mille! Eh eh, stavo scherzando! Ho falsificato una banconota da 25 euro! Ma sei fuori di testa? Le banconote da 25 euro non esistono, nessuno te le accetterà mai! Ah, ho un'idea! Vado da Luigi e gli chiedo se me le può cambiare! Tanto lui è proprio un tipo sciocco! Eh eh, sono riuscito a fregare quel tonto di Luigi! Ti ha cambiato i soldi? Sì, mi ha dato una banconota da 9 euro e una da 16 euro! Basta! Al prossimo che mi fa una domanda sciocca metterò 5! Io che ho la media del 3! Prof, ma gli antichi galli vivevano negli antichi pollai? Sì! Cosa ti è successo? Perché sei in sedia a rotelle? Ho avuto un incidente! Ma non ti preoccupare, non mi sono fatto nulla! Faccio finta di non poter camminare per prendere soldi dall'assicurazione! Se ti scoprono, rischi la galera! E poi, sei sicuro di voler fingere di essere invalido per tutta la vita? Amico, non ti preoccupare! Ho un piano infallibile! Ho già prenotato un viaggio a Lourdes! Ho incontrato una donna fuori dal centro commerciale che piangeva perché aveva perso 300 euro! Così, le ho dato 50 euro! Wow! Come mai hai fatto questo bel gesto? Perché poco prima avevo trovato 300 euro per terra! Quando la fortuna ti sorride, è giusto aiutare anche gli altri! Una donna chiama sua suocera! Cara suocera, mi può dire chi dovrebbe pulire il bambino quando fa la cacca? Papà o mamma? Come sempre, tocca alla mamma! Il mio nipotino si è fatto la cacca addosso? No, se l'è fatta addosso suo figlio, dopo aver alzato il gomito ieri notte! Quindi, venga subito qua a cambiarlo! Un uomo telefona all'amministratore condominiale Salve! Ieri notte verso le 3, mentre studiavo, i vicini del piano di sopra e del piano di sotto hanno iniziato a fare una confusione incredibile! Urla, colpi sul soffitto e sul pavimento! Sono andati avanti fino alle 5 del mattino, quando ho dovuto smettere di studiare! Potrebbe fare qualcosa? Certo! Li chiamerò e dirò loro di non disturbare gli altri, soprattutto mentre stanno studiando! A proposito, cosa studiava in piena notte? Batteria! Ai ai, ho comprato volontariamente un paio di scarpe, tre numeri più piccole, e adesso mi fanno molto male i piedi! Perché le hai comprate se ti fanno male? Perché odio il mio lavoro, mia moglie mi tradisce e mio figlio è un inconcludente! E cosa c'entra con le scarpe? C'entra perché adesso l'unica soddisfazione che ho nella vita è togliermi le scarpe quando rientro a casa! Ciao Kenny, vorrei sapere le ultime novità sulla finanza, potresti andare a prendere il sole 24 ore? Ok! Perché ci hai messo così tanto? E come mai sei abbronzato? Scusa, ma sei stato tu a dirmi di prendere il sole 24 ore? Dov'è la tua pagella? Me l'hanno presa i miei amici per farmi uno scherzo! Pensi che io sia così stolto da credere a questa bugia? Fale bugia! Quella che hai amici? Due soldati ubriachi trovano una bottiglia di propellente per razzi Mario! Guarda! Ho trovato una bottiglia di whisky! Luigi! Beviamocela tutta! Mario! Ieri sera abbiamo esagerato! Sei già andato in bagno? No, perché? Beh, fai attenzione! Io ci sono andato e ti sto chiamando da Tokyo! Il video è terminato! Non dimenticate di mettere like e di scrivere nei commenti le vostre battute! Ah, voglio dirvi una cosa molto importante! È finalmente uscito il mio nuovo libro, Ridere! Si tratta di una storia misteriosa arricchita da centinaia di battute, freddure e barzellette! Lo trovate in tutte le librerie e online! Se volete ridere, leggete ridere!